Botte, schiaffi, urla e sedie che volano. Una violenta rissa camuccia fuori da un locale lungo la strada regionale 71, tutto documentato in un video. È successo di fronte ad un ristorante kebab. Senza motivo hanno iniziato a litigare così, hanno alzato le sedie, hanno buttato le sedie. La situazione sarebbe degenerata attorno alla mezzanotte quando due clienti del locale, forse sotto l'effetto di alcolici, hanno lanciato vassoi e sedie. Sono venuti a mangiare, hanno ordinato la roba, abbiamo portato la roba, dopo hanno buttato i vassoi e i patatini così cibo a terra e mio babbo è andato da lui e ha detto perché stai buttando questo casino. Uno di loro si alza e lo dà punio a mio babbo e inizia a litigare. Dopo avevo due ragazzi che lavorano qui e hanno iniziato a litigare con loro. Alla fine sette persone sono rimaste coinvolte nella rissa. I titolari hanno chiamato il 112 e due clienti si sono allontanati. Dopo un paio d'ora però sono tornati scatenando il putiferio, sempre a suona di sedie, hanno danneggiato la porta d'ingresso e poi hanno aggredito una dipendente rompendogli due denti. Hanno bussato la porta, questo ragazzo non ha aperto la porta, lui prese la sedia da fuori e ha rotto questa porta a vetro. E ora abbiamo fatto la denuncia. Il tutto è stato immortalato in queste immagini girate da un residente che ha sentito le urla dalla finestra. Abbiamo subito messo in campo tutte le attenzioni del caso. Il nostro territorio, quindi Camuscia, tutto il territorio cortonese, è un territorio di legalità, di sicurezza e tale deve rimanere.